Ragazzi ciao, allora qualche giorno fa vi avevo parlato dei pannolini della linea di Eppi che fanno parte dell'azienda Natural Wool e oggi invece vi parlo dei prodotti per la mamma che sono del brand Bella Mamma come prodotti da portare all'ospedale abbiamo le coppette assorbi latte poi gli assorbenti post parto e le mutandine a rete le coppette assorbi latte sono fatte in cellulosa assorbente e sono eccezionali perché sono molto morbide e hanno una forma anatomica gli assorbenti post parto sono molto delicati sulla pelle e sono molto più grandi e assorbono di più rispetto agli assorbenti normali poi invece le mutandine a rete sono in pratica multiuso sono multiuso e quindi possono essere lavate e in pratica sono in combinazione, vengono utilizzate con gli assorbenti post parto e quindi le mutandine a rete sono stati